Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono Giorret e oggi parliamo dell'Eurovision 2022 in particolare di Achille Lauro che infiamma il palco vediamo e appena andati in onda la seconda puntata dell'Eurovision 2022 la semifinale in questo secondo appuntamento sono stati scelti altri dieci finalisti che faranno parte alla finale di sabato 14 maggio ma in questa puntata un artista era molto atteso soprattutto per il pubblico del web stiamo parlando di Achille Lauro con la sua stripper quest'ultimo si è presentato con un boa nero guanti glitterati e tutta semitrasparente che lascia intravenere gli slip neri durante la performance è scattato anche il bacio sulla poca con il chitarrista poi Lauro a fine esibizione ha cavalcato un toro meccanico e un rodeo infocato mentre il ritornello recita ma che stupida voglia che ho madonna che donna che sono insomma Achille Lauro non ha deluso le aspettative e voi state seguendo l'Eurovision di quest'anno chi pensate possa vincere scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento ho concluso il video se vi va iscrivetevi al mio canale per altre news un grosso abbraccio da GioRed Grazie a tutti Grazie a tutti.